Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Rito abbreviato per il congolese accusato di aver stuprato a Rimini due persone Due cugini albanesi dal 2015 ladri seriali in appartamenti fra Pesaro, Riccione e Rimini E' stata ritrovata la rifurtiva di due colpi messi a segno dai ladri nelle sedi di altrettante società sportive nel Fanese Domani a Fano arriva il treno di Matteo Renzi alle 8.45 e farà ingresso nella stazione cittadina l'Inter City Dem Sarà il cardinale Bassetti, presidente della CEI, a tenere il battesimo il rilancio del nuovo amico Settimanale della diocesi di Pesaro, Fano e Urbino Ecco come sarà il carro allegorico dedicato a Gioacchino Rossini Lo abbiamo chiesto al suo ideatore, il professor Pierluigi Piccinetti Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri A voi tutti il più cordiale saluto dalla redazione di Fano TV Il telegiornale Occhio alla Notizia comincia con la cronaca Il prossimo 10 novembre inizierà il processo che vede imputato il congolese accusato di aver stuprato a Rimini due persone Rito abbreviato allo stato degli atti, sei parti civili ammesse e prosecuzione del processo direttissimo al 10 novembre Per Gerlin Butungu, il ventenne congolese arrestato dalla squadra mobile della questura di Rimini Per gli stupri di una turista polacca e di una transessuale peruviana Avvenuti nella notte tra il 25 e il 26 agosto scorsi a Miramare Quella stessa notte venne anche picchiato con violenza un amico della giovane dell'Est Il tribunale collegiale presieduto dal giudice Silvia Corinaldesi Dopo aver sciolto il nodo sulla scelta del rito direttissimo Su cui la procura della Repubblica ha presentato una memoria e ammettendolo sui punti in cui la confessione di Butungu era piena Ha accolto la richiesta della difesa di procedere per tutti gli atti di imputazione per evitare una doppia condanna al congolese Il ventenne, come dai capi di imputazione, risponderà in abbreviato Usufruendo dello sconto di pena di un terzo previsto per legge di violenza di gruppo Sulla turista polacca e la transessuale peruviana Della rapina ai danni del turista polacco, amico della ragazza violentata in spiaggia Sempre la notte del 26 agosto Di rapina e violenza sessuale nei confronti di una turista il 12 agosto scorso E delle rapine ai danni di due ragazzi italiani Come parti civili, oltre ai due ragazzi polacchi e la transessuale peruviana Si sono costituiti il Comune di Rimini, la Regione Emilia Romagna, l'Asulo Romagna E l'Associazione Butterfly Anti-Violenza e Anti-Stalking La decisione della Corte riminese è arrivata alla fine di una mattinata aperta Con una manifestazione degli attivisti del movimento dalla parte delle donne e delle vittime Che ha collocato uno striscione davanti ai cancelli del Palazzo di Giustizia Con la scritta Giustizia per le vittime E due cugini albanesi dal 2015 Ladri seriali in appartamenti fra Pesaro Riccione e Rimini Ma incensurati Sono stati individuati e arrestati dai carabinieri di Pesaro Giovanissimi, uno 25enne e l'altro 22enne Agivano solo di notte Con un trapano a mano facevano un foro nelle tapparelle E uno nei vetri delle finestre Quindi con un ferro ricurvo Aprivano le maniglie ed entravano nelle case In pochi attimi rubavano oro, soldi, vestiti, bancomatta Riuscendo persino a trovare il codice PIN e a prelevare denaro allo sportello Solo nel quartiere pesarese di Villa Fastigi Da giugno ai giorni nostri, ai giorni scorsi I due cugini sono penetrati in 30 appartamenti Razziando ogni volta refurtiva per un valore di 1.500-2.000 euro La merce, spesso monili in oro, veniva poi spedita ogni settimana in Albania Il primo ad essere catturato è stato il 25enne Una pattuglia in borghese lo ha fermato mentre prelevava al bancomat soldi di una famiglia derubata poco prima Il 22enne invece è stato bloccato ad Ancona a bordo di un traghetto pronto a salpare per l'Albania Si era nascosto in un tir Ma quando la nave stava per lasciare gli ormeggi Convinto di averla ormai fatta franca È uscito fuori per andare al bar dove ad attenderlo Però c'erano i carabinieri che lo hanno poi arrestato Ed è stata ritrovata la refurtiva di due colpi messi a segno dai ladri Nelle sedi di altrettante società sportive fanesi Ci sono storie che hanno un lieto fine, se non totale, almeno parziale Ed oggi per due società sportive fanesi in parte si è concluso positivamente un brutto momento Alcune settimane fa, prima il tiro a volo di Monte Schiantello E poi a distanza di qualche giorno la società sportiva Valmetauro Hanno vissuto la traumatica esperienza dei ladri Devastazione, danneggiamenti più o meno estesi Proporzionati alle strutture, chiaramente, e oggetti e soldi Spiccioli, è il caso di dire per il tiro a volo Portati via dai gnoti notte e tempo E dal mattino per entrambi la mara scoperta Ma l'incessante opera delle forze dell'ordine Consente in diverse occasioni di mettere in scacco questo tipo di bande E recuperare diversa refurtiva Giovedì della scorsa settimana i presidenti di queste due società sportive hanno ricevuto una telefonata Erano i carabinieri che le avvertivano che nel bolognese è stato scoperto un deposito di merce rubata ed individuata Una banda di pendolari del crimine E guarda caso, tra la merce recuperata c'era un borsone della Metaurense Oggi le due società sono andate così a recuperare la loro merce Siamo stati in caserma, abbiamo ringraziato il comandante per l'operazione Qualcosa abbiamo recuperato Telefono e alcuni altri nostri pezzi portati via Niente di eccezionale Restano i danni purtroppo Quindi non ce li paga nessuno Ecco, non vi hanno dato molte delucidazioni perché le indagini sono ancora in corso? Sono in corso perché abbiamo visto tanta roba lì nel magazzino Che non sanno di chi è e di chi non è Non è solamente una persona ma sembra che sia un bel gruppetto E niente, noi abbiamo ritrovato quasi al 90% tutta la roba Tranne qualche pallone e un compressore, roba da poco Però il resto, il defibrillatore che ci interessava l'abbiamo ritrovato E anzi ringraziando i carabinieri, Castel San Pietro Terme Che hanno fatto una bella operazione Domani a Fano arriva il treno di Matteo Renzi Alle 8.45 farà ingresso nella stazione cittadina l'Intercity Dem Nel suo secondo giorno del tour che porterà il premier L'ex premier a toccare 107 province italiane in 8 settimane Con l'obiettivo di parlare al paese Ad accogliere Renzi, il segretario del PD locale Ignazio Pucci Alle 9.15 un incontro pubblico a Palazzo San Michele Dove lo attenderanno le autorità cittadine e il rettore dell'Unicam Vilberto Stocchi dopo aver visitato il museo sulla via Flaminia Il treno di Renzi poi ripartirà intorno alle 10 e un quarto Alla volta delle zone terremotate Per chi aspira a entrare nei volontari della protezione civile Il CB Club Mattei di Fano ha organizzato per domani un Open Day aperto a tutti Allora, domani sera è una giornata particolare per la protezione civile Apre le porte della sua struttura per far vedere e farla conoscere a tutti Sì, ci è venuta questa idea in pratica Perché molti cittadini, molti volontari che anche incontriamo Che magari sono venuti qualche mese fa Ci hanno detto, ma io se pensavo, ci avevo pensato già da tempo Ma non sapendo che cos'è la protezione civile, come funziona E allora ci è venuto in mente di fare una giornata In pratica un Open Day, la sede è aperta Per tutti quei cittadini che vogliono conoscere più da vicino Che cos'è la protezione civile Innanzitutto la protezione civile è un insieme di realtà A partire comunque dalle istituzioni Il volontariato ne fa parte, ma è una piccola componente Anche se poi quando serve è in massa e in gran numero Però in pratica bisogna ben capire qual è lo scopo del volontariato rispetto al resto Quindi noi domani sera, alle persone che vogliono avvicinarsi Sia per curiosità, ma soprattutto lo scopo finale nostro È anche di avere qualche volontario Perché qualcuno ne sta uscendo dovuto all'età E quindi daremo quelle informazioni Che cos'è la protezione civile Che cos'è il CIP Club Mattei in protezione civile O nella città Poi faremo vedere quali sono le nostre attrezzature e strutture E poi ci faremo una chiacchierata E vediamo se qualcuno di loro sarà interessato Nel caso sia interessato a rimanere all'interno della nostra struttura Inizierà un corso una volta alla settimana Che terminerà con un esame finale nel mese di maggio-giugno E poi faranno parte della nostra struttura Appuntamento quindi domani sera? Domani sera, mercoledì 18 alle ore 21 Presso il Codma via Campanella Box 18 Noi vi aspettiamo E risponderemo alle vostre domande E presenteremo l'associazione Sarà il Cardinale Gualtiero Bassetti Arcivescovo di Perugia Città della Pieve E Presidente della CEI La Conferenza Episcopale Italiana A tenere a battesimo il rilancio Del nuovo amico settimanale delle diocesi di Pesaro Fano e Urbino L'appuntamento con ingresso libero È per sabato 21 ottobre alle ore 9 Nell'auditorium Pedrotti del Conservatorio Rossini a Pesaro Oltre alle massime autorità civili e religiose della provincia Interverranno anche Francesco Gnibene Capo redattore di Avvenire E Don Adriano Bianchi Presidente della Federazione Italiana Settimanali Cattolici Media Partner dell'evento Fano TV Emittente regionale di ispirazione cattolica La Banca di Credito Cooperativo di Fano Ha inaugurato venerdì scorso Una nuova agenzia a Marotta L'istituto di credito fanese va in controtendenza Ed investe nel territorio Potenziando i suoi sportelli Venerdì è stata inaugurata la nuova sede Ristrutturata ed aggiornata tecnologicamente Di una storica agenzia della banca Quella di Marotta Gli spazi della vecchia agenzia Sono stati infatti rivisti Sulla base di un progetto Che ha messo al centro la persona Privilegiando la privacy e la consulenza Mentre le operazioni di routine Possono essere gestite dalla clientela In completa autonomia E in modo semplice ed immediato Attraverso una cassa self Ed uno sportello automatico e voluto Che si aggiungono alla bancomat tradizionale Ognuno dei sette dipendenti Che costituisce la squadra Ha così uno spazio dedicato Nel quale accogliere Nel modo più professionale E confortevole la clientela Questa è la nuova filosofia aziendale Della BCC di Fano Che guiderà anche la ristrutturazione Di altri sportelli Tecnologia al servizio del cliente Accoglienza e consulenza personalizzata Integrazione con il territorio Questo sportello che era piccolo Così come è stato impostato E diciamo rimesso a posto Dà l'impressione di una spaziosità E quindi sicuramente Per i nostri clienti I nostri soci di Marotta Questa è una bella innovazione Ma lo è anche per noi Perché in ogni caso Per quanto riguarda l'operatività Questa è un'operatività Più congeliale anche A dei clienti Ai giovani A quelli che comunque Hanno bisogno di un rapporto Con la banca Ma amano anche Muoversi in autonomia E qui ci sono gli strumenti Per farlo Uno sforzo comune Di impiegati E titolare della filiale Che hanno lavorato E vissuto Per quasi cinque mesi In un container E della clientela Che ha compreso lo sforzo Ed accettato I piccoli inevitabili Disagi di questa situazione L'apprezzamento Della clientela Poi per l'impegno Della banca È stato testimoniato In occasione Dell'incontro Che si è tenuto Presso il ristorante Le Vele E che ha visto La partecipazione Di oltre 300 persone E clienti Della banca Il sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri Ha sottolineato L'impegno profuso A sostegno Dell'economia locale Dell'azienda E del turismo L'inaugurazione Dello sportello rinnovato È stato così Un'occasione Per i vertici Dell'istituto Di incontrare Soci e clienti In un comune importante Come quello Di Marotta E Mondolfo Incidente mortale Questa mattina A Iesi Un ciclista 78enne Del luogo È stato investito Poco dopo le 9 In via Marconi All'altezza Del ponte San Carlo Sulle cause Dell'investimento Nel quale Sono coinvolte Due auto Una Lancia Musa E una Mercedes Sono in corso Accertamenti Della Polizia Municipale Il ponte È stato temporaneamente Chiuso al traffico E adesso parliamo Delle sagre Di qualità Le sagre di qualità Da oggi D'ora in poi Avranno Il riconoscimento Della Regione Marche Ma è una legge Molto attesa Perché abbiamo Tutti la consapevolezza Che i dati Dell'Enit Sono molto interessanti E cioè Che il turismo Eno gastronomico Sta crescendo Ed è in continua Costante E progressiva Crescita Solo Sul dato Dei turisti stranieri L'Enit Ci comunica Che dal 2012 Al 2015 Il fatturato Dell'enogastronomia Legata al turismo Cresciuto del 55% Ma gli elementi salienti Sono questi Che le sagre di qualità Le sagre che avranno Il marchio di sagra di qualità Devono Valorizzare il territorio Fra il prodotto Che è L'oggetto della sagra Ci deve essere Un forte legame Con il territorio Con l'idealità del territorio Con le tradizioni Del territorio Di dove si svolge la sagra E i prodotti Devono essere prodotti Che prevalentemente Vengono dalle marche Dal mercato Locale Dal mercato marchigiano Prodotti della filiera Corta Prodotti che vengono Dall'agricoltura biologica Prodotti non geneticamente Modificati Prodotti che Sono le DOP Le IGP Anche le DECO Sono prodotti Sostanzialmente Quei prodotti di qualità Della nostra Della nostra regione Le sagre Le sagre che avranno Il riconoscimento Da parte della regione Potranno freggiarsi Del logo Quindi di sagra Di qualità Riconosciuto Dalla regione Marche Che è stato approvato Appunto Dal consiglio regionale E saranno poi Promosse Nel sito istituzionale Del turismo Della regione Marche Quindi avranno Una visibilità A livello planetario Una visibilità mondiale Perché il nostro sito Ha visitatori Quotidiani Da tutto il mondo Ma sono milioni Di visitatori Quindi c'è una visibilità Grande Naturalmente Ci sarà un disciplinare Quel disciplinare Dovrà essere rispettato E chi poi Non lo rispetterà Una volta avuto Il riconoscimento Sarà anche Tolto Ovviamente E gli verrà tolto Il marchio Quindi ci sarà Tanta gente Tanti visitatori Tanti turisti Che visiteranno I nostri borghi I nostri centri storici Proprio grazie Anche a chi organizza Le sagre Ha partorito Il suo terzo figlio In ambulanza Assistita Dalla Croce Rossa E da un'equipe Del 118 Chiamati dai familiari Quando si sono accorti Che la donna Una quarantenne Straniera Residente ad Ancona Stavano per rompersi Le acque Cosa che è avvenuta A bordo appunto Dell'ambulanza Gli operatori sanitari In assistenza Al medico del 118 Hanno aiutato La puerpera A mettere al mondo Una nuova vita L'episodio è avvenuto Ieri sera La mamma E il piccolo In buone condizioni di salute Sono stati poi Accompagnati Nel presidio pediatrico Salesi Per i controlli Del caso Si parla tanto Del carro allegorico Di Gioacchino Rossini Quello che sfilerà Il prossimo anno Al carnevale Di Fano Oggi noi abbiamo Incontrato Il suo ideatore Ovvero Il professor Pierluigi Piccinetti Entrando nel suo studio Si ha l'impressione Di entrare In un universo artistico Completo Grandi tele ad olio Sculture Bozzetti Equeforti Modellini Scala di Maestosi carri di carnevale E poi statue Che sembrano di bronzo Ma che in realtà Sono fatte di carta pesta Siamo rapiti ed incantati Pennelli e colori ovunque Acquerelli dalle velate trasparenze Tolgono il fiato Agli amanti dell'arte Ovunque volgiamo lo sguardo La creatività E l'estro del maestro Ci riempiono gli occhi Siamo quasi frastornati Da tanta bellezza Abbiamo deciso Questa mattina Di far visita Al maestro della gomma piuma Per conoscere Dal suo ideatore L'essenza Di quello che sembra Destinato Ad essere un carro di carnevale Che lascerà il segno Il professor Pierluigi Picinetti Ci accoglie Sulla soglia del suo studio Con un sorriso rassicurante Sotto i suoi bianchi baffi Che ci mettono subito A nostro agio E le domande Per il carro su Rossini Arrivano veloci E' un progetto Che io Ho fatto La prima volta Nel 2000 Quindi Per il carnevale 2001 Non è andato in porto E' un lavoro Abbastanza complesso Quindi Ecco Io Non riesco Personalmente A farlo E quindi Ho chiesto All'associazione Caristi Per Realizzare Questa cosa Poi c'è anche Un bel lavoro Per esempio Oltre che la modellazione Eccetera C'è anche Un bel lavoro Di Di meccanica E sono delle cose Abbastanza Forse qualcuna Anche nuova Per Fano Quindi vedremo Delle novità Senza svelare troppo Però Del carro Perché la sorpresa È importante Rappresenta un po' Un'allegoria Di tutto l'universo Rossiniano Sì Il titolo è La calunnia Un venticello Quindi ripresa Dal barbiere Ricorda L'avvenuta Di Rossini Quando aveva Otto anni Al teatro Della fortuna Che ha suonato La viola Poi ho ripreso Per rappresentare Rossini Il discorso Del cibo Per esempio Alcuni personaggi Che rappresentano Le sue opere Principali Sono su dei piatti Tenuti da mano Di camerieri Come se fossero Delle pietanze Diciamo così E rappresentano Dal barbiere Il volo del motel Non so E altre cose Rossini al centro No? Molto grande Che suona Non proprio un violino Un'altra cosa Diciamo che suona qualcosa Suona qualcosa Poi in alto C'è anche La palla di pomodoro Il cigno La cattedrale di Reims Insomma ci sono Un po' di cose Questo era il nostro Ultimo servizio Tra poco box I personaggi di Fano Poi in cucina Con lo chef Questa sera Uno speciale Registrato urbino Ovvero Bio Saulus Questo è il numero Di telefono 338-496-8250 Per le vostre Segnalazioni Anche con Whatsapp Io vi fermo qui Grazie per averci seguito A voi tutti L'augurio di una buona serata Arrivederci Grazie per averci seguito Grazie per averci seguito